Anche il comune di Faggiano, come altre cittadine del versante orientale della provincia, ha beneficiato di contributi economici per fronteggiare questo difficile momento. 200 mila euro in più nelle casse comunali. Siamo andati nella città del presepe vivente ed abbiamo incontrato il sindaco Antonio Cardea. Come saranno utilizzati, sindaco, questi fondi? Sì, naturalmente sono fondi che riguardano minore entrate per il comune di Faggiano, come tanti altri comuni le hanno avute. Naturalmente sono fondi che devono essere spesi solo e soltanto per quanto riguarda il Covid. Noi già abbiamo fatto tante spese per quanto riguarda soprattutto il ripristino delle scuole per renderli ancora più agevoli per i bambini. Ma intendiamo fare anche qualcosa che riguardi i buoni spesi per le persone che purtroppo stanno attraversando momenti difficili. Il sindaco Cardea, infatti, ha già provveduto ad adeguare gli ambienti scolastici alle nuove esigenze dettate dalla pandemia ed annuncia ai nostri microfoni il prossimo importante progetto della sua amministrazione. Abbiamo anche messo in progetto, che non c'entra nulla con questo finanziamento, la riqualificazione del parco giochi di Piazza Aldomoro. Il parco giochi pubblico Aldomoro prossimamente è riqualificato e questo è il dono che il sindaco di Faggiano Antonio Cardea spera di poter fare al termine di questa pandemia a tutti i bambini della sua comunità.